Il Governo ha stanziato un fondo da 50 milioni di euro a sostegno delle TV locali per fronteggiare l'emergenza Covid e sostenere l'informazione. I criteri per accedere al fondo non hanno tenuto conto di tutte le emittenti che, anche se svolgono un ruolo costante di informazione e presenza sul territorio, saranno escluse dai sostegni. I fondi saranno divisi solo tra le TV che annualmente già percepiscono milioni di euro a fondo perduto in base al sistema entrato in vigore dal 2017. Tutto questo nell'assordante silenzio delle associazioni di categorie e di sostegno al settore, oltre che dal mondo della politica. Dopo la pubblicazione ufficiale in gazzetta, in questi giorni stanno partendo le domande tra gli eventi diritto, con l'esclusione di tante realtà che ogni giorno lavorano, nonostante le difficoltà sanitarie e i cali di fatturato, pur di garantire programmi TV al territorio. Telecittà, come tante altre realtà, continuerà a produrre informazione e programmi televisivi, contando solo sulle sue forze un'informazione libera, trasparente e senza fondi pubblici. Grazie a tutti.